Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo su The Elder Scrolls Legend, gioco di carte sulla saga di The Elder Scrolls Come sapete ieri è uscita la versione Remastered di Skyrim, che se non l'avete ancora capito e guardate il mio logo del canale, capirete che è il mio gioco preferito Probabilmente in settimana vi partirò qualche gameplay in streaming di Skyrim Ed oggi siamo qui su questo gioco di carte molto molto simile a Hearthstone, chi conoscesse quel gioco sa già più o meno le meccaniche di questo The Elder Scrolls Legend qua praticamente Il gioco è soltanto su Windows 10, probabilmente lo porteranno anche sia su Android che iOS, non sappiamo quando né se davvero lo faranno E comunque è ancora in fase beta Come vedete c'è una modalità storia che poi, arrivati mi sembra al capitolo 8 della storia, sblocchiamo sia la modalità allenamento che gioca Questo è di presenza della modalità PvP con altri giocatori Per il momento io la lascerei un po' perdere perché sono sempre un po' nabbo Devo ancora capire un po' il tutto perché non è poi uguale uguale a Hearthstone E comunque devo formarmi un buon mazzo perché per il momento io ho soltanto i mazzi che mi danno nella storia, ne ho soltanto due e vabbè Andrei qui a farmi una partita di allenamento per farvi vedere un po' il gioco Userei volentieri il mazzo Gruppo Sopravvissuti che sarebbe quello che cominciamo in questo gioco E quindi già che so utilizzare un po' meglio Quindi dovremmo essere contro un avversario in CPU Vi faccio un po' vedere com'è anche la plancia di gioco Siamo contro Soffi della Palude, il vittorioso Questa è la... ok, iniziamo per primo Possiamo scegliere di togliere una carta Io direi che posso togliere benissimo anche questa qui Cambiarla Solo per il fatto che costere mana e io nel primo turno avendoci soltanto un mana non mi conviene Ok, adesso questa qui è la zona di gioco Però come vedete è divisa in due parti Qui c'è una zona di luce, qui c'è una zona di ombra Se io invoco una creatura qua nella destra non potrà essere vista né attaccata per il prossimo turno Stessa volta se io invoco una carta qui non posso attaccare creature che stanno qui Cioè non ci sono battaglie incrociate Quindi direi comunque di usare il frenetico che metterei volentieri qua nella zona d'ombra Visto che c'ha poca vita non può essere visto E passare il turno all'avversario Vediamo come se la cava lui e vediamo un po' Anche lui gioca dallo stesso modo Ora è il mio turno però io... ok, infligge un danno a tutti i nemici Normalmente le carte abilità Pala di fuoco, 4 di mana 4 di elisir come in Clash Royale Coincidenze? Comunque carte abilità, magie come queste possono distruggere carte nascoste Adesso mettiamo questo divoratore affamato da quest'altra parte E attacchiamo direttamente l'eroe Visto che non possiamo attaccare questa carta e non ha nessuna guardia Quindi possiamo benissimo fare così Passare il turno e vediamo che succede Ho utilizzato un'altra carta uguale Ovviamente lui ha questa abilità qui Che giocando per secondo Ha 3 cariche di mana gratis E che ci mette un po' in svantaggio Però adesso vediamo un po' come fare Questo infligge un danno Quindi se io lo butto qui Posso distruggere benissimo questa carta qua E con lui attaccare l'eroe Quattro danni BAM! Come ti ho visto è molto semplice più o meno il gioco Adesso però attacchiamo di qua perché se no moriamo male Ok sto Ho capito cioè lui ha lo stesso mazzo più o meno che ho ricevuto Nella storia io Dobbiamo assolutamente distruggere questi tre mostri Dobbiamo per forza Ucciderli questi mostri qui Per il momento utilizziamo la palla di fuoco Così almeno un danno lo tolgo a tutti Un danno lo tolgo più che volentieri così Non ho più mana però A questo punto posso Distruggere almeno una creatura Gli altri poi ci faranno il culo Però vabbè Andiamo Attacchiamo direttamente BAM! Passa il turno E cerchiamo di stare buoni ragazzi Cerchiamo di stare buoni Tante buoni Aia Ok vabbè Pensavo peggio onestamente Però lui ha ancora tanto mana Lui cioè Come Come clash Cioè alla fine Il mana è quello che decide la partita Lui è andato avanti Oh questa carta è buona Non posso ancora invocarla però Però vi dicevo Lui è andato avanti Di Elisir C'era uno più di noi E quindi è avvantaggiato Può invocare il mondo adesso Noi però abbiamo una bella armatura Un legionario imperiale E una carta sfondamento Danni aggiuntivi Inflitti all'avversario Mi fa pure quella carta con 5 Ragazzi Mi fa paura che la carta con 5 Mettiamo una carta qui Tanto per Tanto per E te E attacchiamo dai Possiamo fare altro Dobbiamo invocare Questa tigre Sa anche di qua 5 danni ci fanno malissimo E lo sapevo E lo sapevo Bisogna buttarla giù quella carta Bisogna buttarla giù assolutamente Adesso Merda Wow Quelle Queste carte qui Queste sono De De Di 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 Più 4 E più 1 Ok se noi invochiamo Questa carta qui Ha 7 Di Di Difesa E loro prima Dovranno attaccare me Qui non possiamo fare altro Ragazzi Però possiamo benissimo Far fuori questa carta qua La nostra da fare è quella E Lui ci ucciderà probabilmente Questa carta qui Se è intelligente non lo fa Ok ci attacca Ci attacca No E proprio si è Si è voluto distruggere o si Ok Quello che speravo è successo Adesso dobbiamo buttarci dall'altra parte Guardi Evocazione Se ha più di salute dell'avversario Evoca una coppia della carta Nell'altra zona Abbiamo Più ponti salute Quindi possiamo farlo E evochiamo una carta gratis Questa carta ragazzi È potente E diamo volentieri Anche Più vita Questa non luce uccide subito Adesso Rimaniamo con 2 di vita Qualora lui ci attaccasse E passiamo il turno No Ci deve attaccare Per forza Se vuole attaccare qualcuno Perché Abbiamo Abilità guardia Quindi anche lui Ok Ok Va bene Va bene Merda Profezia Distrugge Una creatura Ok Questa qui Potremente Quando viene distrutta Da 5 punti salute Aia Noi abbiamo Lo Jarl Trionfante Se ha più salute dell'avversario Pesca 2 carte Ok Io la invoco Peschiamo Ben 2 carte Vediamo un po' La scimitarra E la scimitarra E la scimitarra E la scimitarra E la scimitarra Soltanto 9 Possiamo concludere Questo turno Ora lui Ci dovrà per forza Attaccare Cos'è quella carica Ok Si è ripreso La salute Perché Vedete 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 Tornato a 16 Tornato a 16 Perché ci ha distrutto L'arte È morto E con abilità Si è ripreso 1 Ok Ha calato Tutto il deck Praticamente Lo ha calato Tutto Ok Questa carta Infligge 3 danni Dobbiamo cercare Qualcosa che Distrugga Gli avversari Più 3 Più 3 Lo sfondamento Più 4 Più 1 Questo distrugge Una creatura Ok Poi Questo infligge 3 danni Che gli infliggo Direttamente A lui Non possiamo fare altro Non possiamo neanche Attaccare Gli avversari Quindi prendiamoci Direttamente Con il Con il lucertolone Lui è arrivato Già a 10 mana Ragazzi Se adesso Decide di calarci Giù tutto il deck Per fortuna L'ha rimasto Stanto una carta Per fortuna Ok Lui è rimasto Con 6 di vita Evocazione Più 2 Più 2 E guardia Ha una creatura Infligge un danno Alle creature nemiche In questa zona Dovremmo Aver vinto Ok Queste due creature Sono fuori adesso Di qua abbiamo lui Lui ha 0 carte Quindi probabilmente Calerà Pochissimo Anche il prossimo turno E mettiamo Una carta Di qua E sfondiamo Concludo qua Il turno Due punti ferite Ci dividono Dalla vittoria Ragazzi Ok Ha messo Una carta Guardia di là Spero di distruggerla In turno No non credo Ok Guardate come facciamo Prendiamo Questo Lo mettiamo A lui E diamo Molto attacco In modo che Possiamo distruggergli La sua carta Con 5 di punti dita E con lui Andiamo a vincere Bella tattica Ragazzi Bella tattica Mi piace davvero tanto Questo gioco Mi piace davvero tanto Poi giochi di carte Poi di Elder Scrolls Mamma mia Cioè questo gioco Mi ci fugirò Dalla mattina alla sera E prendiamo Un po' Di soldi Ma ok Perfetto Mi ha dato Le gemme dell'anima Mi servono Per creare Delle carte Quest'altro Non so come funzioni Dovrò rivederla Quindi ragazzi Che dirvi Posso concludere Anche questo video Anche perché Le battaglie Sono abbastanza lunghe Quindi 1-2 Al massimo Penso di portarle Ogni volta Anche perché Sennò diventa Di video Veramente lunghi Mi raccomando Di spolliciare Anche per questa serie E vi ricordo ancora Prossima settimana Porterò qualche streaming Già di Skyrim Lo so che Non vede l'ora Di giocare con me Quindi ragazzi Se anche questo video Vi è piaciuto Vi invito a lasciare Tanti like Commentare Iscrivetevi al canale Se non l'ho fatto Facebook e Instagram Le trovate nella descrizione Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi